Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Permessi, facili ai cinesi e frode all'erario. Si è aperto oggi al Tribunale di Prato il processo a quattro colletti bianchi dell'inchiesta Easy Permit dello scorso ottobre. Sentiamo. Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Prato il processo per i quattro principali imputati della recente inchiesta Easy Permit che ha fatto emergere ancora una volta un sistema di complicità tra i colletti bianchi e l'illegalità cinese che ha portato complessivamente a oltre 200 indagati e a otto misure cautelari. Si tratta di Chao Hu, di Giuseppe Cannatà, di Alessandro Frati e della moglie Alessandra Belliti, tutti i titolari di studi professionali, tutti ancora agli arresti domiciliari dallo scorso 13 ottobre. Il loro processo sarà con giudizio immediato, così come disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, processo che entrerà nel vivo già da metà marzo. L'inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Buscagli, ha evidenziato lo stretto legame tra i cosiddetti colletti bianchi e l'imprenditoria cinese per creare schermature sia per frodare l'erario che per ottenere facilmente permessi di soggiorno. Le ipotesi di reato a vario titolo sono falsità ideologica in atti pubblici, favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato italiano di stranieri privi di titolo, contraffazione, alterazione o utilizzo di documenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Alla base del sistema ci sono l'utilizzo di prestanome a cui intestare l'attività, il connesso meccanismo apri e chiudi nel giro neanche di tre anni di vita dell'azienda che consente di lasciare l'erario con il cerino in mano e le ditte fantasma. Nel mezzo ci sono contratti di lavoro fittizi per ottenere i permessi di soggiorno ai connazionali e bilanci truccati, operazioni che secondo l'accusa non possono essere realizzate senza la complicità dei professionisti, i colletti bianchi appunto. Ne abbiamo parlato in questi giorni, la riapertura domenica del Lungo Bisenzio dopo tanti anni di chiusura, sono in vendita da venerdì al prezzo speciale di un euro i biglietti per la partita Prato-Rimini e allo stadio ci sarà anche il sindaco Biffoni e che non sarà solo. Cresce l'attesa tra gli sportivi pratesi per la riapertura del Lungo Bisenzio che domenica 30 gennaio tornerà ad ospitare una partita del Prato per la prima volta dopo la chiusura dello stadio quattro anni fa. I supporter biancazzurri dovranno però attendere fino a venerdì prima di acquistare i biglietti che per l'occasione il Prato ha deciso di vendere al prezzo popolare di un euro più gli eventuali diritti di prevendita. Nonostante il calendario della Serie D abbia messo in programma la sfida con la capolista Rimini. Tra i tifosi pratesi presenti a Lungo Bisenzio ci sarà anche il sindaco Matteo Biffoni che ha annunciato su Facebook l'intenzione di sedere tra gli ultras della curva e di portare allo stadio il figlio Stefano. Vedranno un campo tutto nuovo, bellissimo fra l'altro, il manto forse così non è mai stato, diciamo non l'abbiamo mai avuto. Uno stadio sistemato in tutte le sue parti, sono in corso i lavori della tribuna centrale. Nel frattempo è stata montata una tribuna mobile per accogliere queste partite. L'importante è tornare a casa, l'importante è che Prato torni a Lungo Bisenzio, che i tifosi tornino a casa loro e questa è la cosa che ci soddisfa di più. E sul futuro del Lungo Bisenzio Biffoni non pone limiti. Perché è chiaro, se arriva la necessità, e io sapete molto che me l'auguro e me l'auguro parecchio, di appunto un numero di spettatori sempre più ampio, una categoria superiore eccetera, siamo pronti a fare tutti gli investimenti del caso per portare il Lungo Bisenzio all'altezza della sfida. E ora andiamo al Macrolotto Zero, perché il rilancio di questo quartiere dove vivono tantissimi cinesi passa dalla nascita di un consorzio con commercianti e residenti. Sentiamo. Un consorzio che riunisca commercianti, residenti e professionisti per gestire il Macrolotto Zero sul modello Santa Trinita. È l'obiettivo a cui sta lavorando l'amministrazione comunale per dare una svolta al quartiere ad alta presenza cinese tra via Pistoiese e via Filzi, da sempre contrassegnato da degrado e da problemi di convivenza, e sui cui il Comune sta investendo molte risorse e realizzando nuovi spazi pubblici, quali media library, playground e mercato coperto. La novità è emersa stamani nel corso della seduta congiunta delle commissioni 3 e 4 dedicata alla petizione cittadina contro la riduzione dei posti auto, che l'allargamento dei marciapiedi e la riqualificazione del tratto di strada di circa 450 metri che va dal bar Scalina all'incrocio con via Marini, sta comportando. A illustrare la novità è stato il consigliere del PD Marco Wong, che si sta spendendo in prima persona per far partire questo progetto. Lo incontriamo nel pomeriggio al Circolo Curie, il prima dell'inizio di uno degli incontri con i possibili protagonisti del consorzio, in questo caso un gruppo di artisti attivi in zona. Deo sarebbe quella di far sì che ci siano sia commercianti che residenti, perché i commercianti hanno delle proprie esigenze, i residenti ne hanno delle altre e quindi il consorzio vorrebbe far sì che questo sia un luogo innanzitutto di incontro in cui ci si possano comunicare le rispettive esigenze e magari anche risolverle insieme, insomma in un modo così, creando veramente una comunità che rappresenti un po' la complessità del quartiere. Ecco, la comunità cinese come sta rispondendo a questa vostra idea? Sì, adesso lo sto lanciando e insomma richiedo un notevole sforzo di spiegazione, perché ci sono tante associazioni di cinesi qua su Prato, però sono normalmente delle associazioni che rappresentano per esempio il mondo impreditoriale oppure i cinesi che provengono da un particolare luogo della Cina, non c'è un qualche cosa che faccia qui a Prato riferimento proprio a una precisa collocazione geografica locale. E quindi, insomma, è questo il motivo per cui stiamo cercando di creare questo comitato. Passiamo al Covid, non c'è fortunatamente nessun pratese tra i 42 decessi Covid segnalati oggi dalla Regione. Le vittime pratesi da inizio emergenza restano quindi 698 con l'ultimo decesso, che è quello del sessantenne comunicato ieri. Resta invece stabile la situazione nelle strutture ospedaliere della Regione, dove la crescita dei ricoveri di pazienti Covid sembra rallentare per le terapie intensive e invertire la tendenza. Oggi ricoverati nelle aree Covid degli ospedali della Regione sono complessivamente 1491, 5 in più rispetto a ieri, di cui 122 in terapia intensiva, 3 in meno. Venendo ai contagi, questi sono in calo rispetto a ieri sia a Prato, sia in Toscana, ma a fronte di un'analoga diminuzione dei tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore, così i nuovi casi sono stati 813 in provincia e 10.535 in Regione, su un totale di oltre 65.500 test analizzati. Sempre a proposito di Covid, il camper delle vaccinazioni pediatriche farà sosta anche nella provincia di Prato, 5 le date previste, il 2, il 15 febbraio, il 9, il 23 marzo e il 7 aprile. Ora però bisogna raccogliere le adesioni da parte dei genitori e dei presidi. Le scuole infatti gestiranno le preiscrizioni. Un compito che, secondo i dirigenti scolastici, ancora una volta andrà a gravare sulle segreterie scolastiche, già oberate dalla burocrazia. L'organizzazione gestita dalla Società della Salute, in collaborazione con i sindaci che hanno inviato ai presidi delle scuole primarie e secondarie, l'invito a partecipare all'iniziativa che riguarda i bambini dai 5 agli 11 anni. Ogni giorno verranno somministrate 80 dosi in 4 ore, non è ancora stato deciso se il camper sarà a disposizione di un solo plesso scolastico oppure verranno raggruppati più istituti comprensivi. E a proposito di scuola, ma cambiamo argomento, la primaria poli raddoppia e a settembre la prima campanella per i bambini sarà nella sede rinnovata. Sentiamo Alessandra Grati. La scuola primaria poli si è amplia. Da settembre saranno utilizzabili gli spazi della nuova palazzina. Al piano terra due mesi è uno spazio per l'attività motoria e quattro aule al secondo piano. Il nuovo edificio sarà collegato con quello centrale della scuola realizzata nel 2008. I lavori sono costati 1.900.000 euro, di cui 700 finanziati dal MIUR. È un ampliamento della scuola primaria, è un ampliamento che da tempo il territorio aspettava e oggi i lavori sono in uno stato d'avanzamento molto importante, nonostante tutti gli stop and go che abbiamo avuto purtroppo per la pandemia e anche per l'aumento dei costi del materiale che sono rialzati dal 15 al 25%. La nuova palazzina non è la sola novità per l'istituto comprensivo Levy. Qui sarà trasferita una sezione della scuola secondaria e realizzato anche un laboratorio di robotica. Proseguono intanto i cantieri anche in altre scuole. Sono 13 quelle monitorate dagli uffici del comune che hanno bisogno di interventi di messi in sicurezza del solaio. L'importo complessivo dell'intervento è di 300.000 euro. Il Consiglio che prevede la risistemazione di 4.000 metri quadrati di solai. Attualmente ne sono stati fatti 1.000 metri quadrati, gli altri 3.000 verranno fatti quest'estate e l'intervento più grosso dove ci ha permesso di mettere in sicurezza tutta la scuola è stato fatto alla Fermi dove abbiamo trattato per adesso 300 metri quadrati di solai. Il Consiglio comunale di Vaiano in occasione della giornata della memoria si riunirà domani alle 17.30 con una seduta speciale dedicata alla testimonianza di Liliana Segre che il comune di Vaiano ha insegnito della cittadinanza onoraria. Dopo il saluto del sindaco e l'illustrazione delle motivazioni che hanno spinto il comune a concedere la cittadinanza onoraria sarà letto il messaggio che la senatrice a vita ha inviato per ringraziare. È stata rinnovata la convenzione tra Alia e Polizia Provinciale nel 2021, l'anno che si è appena chiuso è emerso che le aziende in regola sono in aumento. Sentiamo Alessandra Grati. L'attività di controllo di Alia e della Polizia Provinciale nel 2021 ha registrato un comportamento più virtuoso da parte delle imprese che producono scarti tessi. Su 89 controlli fatti, 70 sono risultati in regola, 7 avevano i registri compilati parzialmente in modo sbagliato e 12 ne erano prive. Le denunce penali sono state 5, dimezzati rispetto a 5 anni fa gli scarichi abusivi nel comune di Prato. Dal 900 del 2014 si è passati a 457 nel 2021. La tutela dell'ambiente resta una delle funzioni più importanti dell'ente provincia. Tutela dell'ambiente vuol dire tante cose, ma in particolar modo vuol dire attenzione al contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Questi sono comportamenti assolutamente inaccettabili e che grazie alla collaborazione tra la Polizia Provinciale e gli ispettori di Alia riusciamo a contrastare. Non solo contrastare, ma svolgere anche delle importanti indagini. Un'attività portata avanti da Alia e dalla Provinciale attraverso un accordo che è stato rinnovato per il quinto anno consecutivo. La Convenzione prevede due uscite congiunte al mese durante le quali Alia affianca alla Polizia Provinciale un tecnico dei rifiuti in grado di parlare cinese. Oltre all'attività di sanzione di quanto viene rilevato, c'è anche un'attività di prevenzione e educativa nei confronti soprattutto delle aziende. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.